Una pioggia di soldi per le scuole di Salerno e provincia è quella in arrivo per gli istituti educativi ed annunciati nel corso di una conferenza stampa congiunta tra il deputato PD Piero De Luca e il presidente della provincia Michele Strianese. Presso la sede del coordinamento provinciale del partito sono stati illustrati i contenuti del provvedimento che interessano 50 istituti. Oggi presentiamo forse uno dei più grandi piani di interventi di riqualificazione edilizia scolastica mai realizzati e programmati in provincia di Salerno. 46 milioni di euro divisi in due tranche, 20 milioni già immediatamente disponibili per circa 50 interventi che la provincia di Salerno ha pronti e sarà pronta a cantierare nei prossimi mesi. 15 riguarderanno solo la città di Salerno. Tutta la provincia è riguardata da interventi di riqualificazione complessivi che riguarderanno l'efficientamento energetico, la lotta, il contrasto alle barriere architettoniche, l'adeguamento alla normativa antisismica e la costruzione anche di nuovi plessi. Ed è un segnale importante di fiducia per la ripartenza e di fiducia e di vicinanza per i nostri studenti e per le nostre famiglie in un momento così difficile. Quindi davvero sarà una rivoluzione per la nostra provincia. I progetti sono già disponibili e dunque i cantieri possono iniziare già nelle prossime settimane. Sono stati finanziati con un primo decreto 20 milioni di euro che sono praticamente già esecutivi, quindi inizieremo a fare le gare nei prossimi mesi disseminati su tutti gli istituti principali della provincia. Poi abbiamo un secondo riparto da 26 milioni di euro.